In questo video andremo a vedere Spaces che è l'editor dei modelli di EnvyMet. Lo richiamiamo qui dal quartier generale e dopo un caricamento parte eccolo qui. La barra di EnvyMet può dare fastidio, specialmente con schermi un po' piccoli, la si può ridurre, la si può anche chiudere a questo punto oppure la si può portare a ridurre l'icona addirittura qua sotto. La prima mossa da fare ogni volta che si apre Spaces è caricare il progetto, in questo caso andremo a prendere progetto Roma. In questa maniera verranno caricati tutti i database riferiti a questo progetto. L'interfaccia di Spaces è suddivisa essenzialmente in tre parti. La parte riguardante le schede superiori, la parte della viewport con alcuni dei comandi per modificarla appunto questa viewport e la parte laterale con altre schede riguardanti gli oggetti che andremo a inserire nella scena. Partendo dall'alto andiamo a vedere cosa possiamo trovare all'interno di queste schede. Partendo sempre da project andiamo a vedere, avevamo già impostato qui il progetto, che saranno fondamentali le impostazioni da inserire qui su basic setting new area, poi con calma le spiegheremo e qui potremo anche trovare i comandi appunto per il salvataggio del modello. Infine la possibilità di convertire il modello da una versione 2,5d così definita, a una tridimensionale. Ed è appunto nella scheda 3d model che andremo a vedere la 3d view. Abbiamo la possibilità di impostare una vista tridimensionale. Per farlo anticipo subito che sarà conveniente ridurre lo zoom della nostra griglia in 2d per poterla meglio vedere poi nella versione tridimensionale. Altrimenti questo zoom non ci avrebbe permesso di visualizzarla bene. Andiamo a vedere da subito quali sono effettivamente i comandi di una viewport 3d, della viewport 3d, che è molto complicato forse all'inizio da gestire, ma con il tempo si prende una certa manualità. Per ruotarsi, per orbitarsi, bisogna tenere premuto il control e muovere semplicemente il mouse senza premere null'altro. Con shift invece si effettuano operazioni di panning. Per quanto riguarda lo zoom in avanti e indietro, è possibile farlo semplicemente con la rotellina del mouse. Ovviamente con lo stesso comando con cui siamo andati nella vista tridimensionale torneremo in bidimensionale. Nelle ulteriori due schede troviamo invece il model inspector, che sarà utile per capire se effettivamente il nostro modello potrà o meno girare, e alcuni dei dei comandi più utilizzati a fine della progettazione. Su digitize invece troviamo il comando per importare una bitmap in background da poter ricalcare. Nel menu laterale, invece, abbiamo i comandi per inserire building, vegetation, le informazioni riguardanti la superficie terrestre, i recettori, i sources, i single wall, infine, e i dam. Per quanto riguarda il single wall in particolare, verrà, in questo momento, verrà segnalato un errore, perché per poter utilizzare i single wall sarà fondamentale, a parte avere una versione licenziata, altrimenti nella versione gratuita non è possibile, ma sarà necessario convertire il modello da bidimensionale a tridimensionale. Su questa questione del modello tridimensionale, effettivamente è bene spendere da subito una parola, in quanto il modello bidimensionale, o meglio 2,5D, contiene informazioni che vengono lette davvero in bidimensionale, benché noi abbiamo già visto qualche secondo fa che possiamo avere una 3D view, quindi poter vedere il modello in 3D in realtà non significa che questo sia davvero tridimensionale, perché nella versione appunto tridimensionale viene considerato una sorta di esplosione di questo, dove ogni elemento che costituisce il nostro modello viene suddiviso in facce opportunamente modificabili.